Aldo, il 2 giugno 2019, guardo il mio calendario, libertà, guardo fuori dalla finestra, che bel tempo, il cielo, mi piacciono le giornate d'estate, pronti, sono le 11, sono di nuovo in partenza, verso la Lombardia, mia regione, a forma di foglia di acaro, ecco che mi incammino, esco dalla mia casa di Milano, levo il cancelletto che ho vicino la porta, come per dire libertà, ecco questa è la libertà, è la cosa più bella che c'è nella vita, libertà, e vado, prendo il treno, arrivo alla stazione centrale, il primo treno che parte, non ho ancora ben deciso il programma, comunque parto per la Lombardia qui vicino, faccio un bel viaggio, anche oggi come ieri che sono stato, esattamente ieri al lago di Beronigolo, che mi è piaciuto tantissimo, ho fatto tanti chilometri a piedi e mi sono divertito, riposato stanotte, riparto stamattina ore 11, forse vado in un luogo al buio, come la grotta, o in un sentiero nel bosco, sempre nelle vicinanze di Bergamo, ora mi incammino, vado all'Eurospin, con 3 euro mangio tutto il giorno, e vivo la mia estate pienamente vissuta, minuto per minuto, saluti da Aldo.